Eccoci, eccoci, buon sabato a tutti, buon weekend, alle ore 15 gioca il Mian, quindi siamo pronti per andare allo stadio San Siro, vi aspetto numerosi, ma siete numerosi, lo so già, siete in tantissime allo stadio oggi. Sarà evidentemente una partita interessante per diversi aspetti, soprattutto a livello tattico, a livello di schieramento di base da parte del Mian, perché per la prima volta dal primo minuto in campionato vedremo un trio di trequartisti tutto tecnico, rapido, veloce, di fantasia, con Ciucquezi a destra, Leo a sinistra, Pulisic nel ruolo di trequartista centrale, lo aveva già fatto qualche volta con la maglia del Chelsea quando era appunto un giocatore dei Blues e lì davanti conferma per Olivier Giroud. A centrocampo Reinders e Adli in difesa con l'assenza di Malik Chao a causa appunto di questa fascite plantare, di queste infiammazioni al piede, che Mian ha deciso di concedergli uno stop precauzionale in vista della partita contro la Roma di giovedì, dove sarà necessario recuperarlo, con l'assenza di Chao giocheranno Gabbia e Tomori, con Teo Hernandez che torna a sinistra dopo la squalifica contro la Fiorentina, mentre a destra dovrebbe giocare Calabria in porta ovviamente Mike Mignan, sarà questo lo schieramento probabile della formazione rossonera del Milan che affronta il Lecce, una squadra comunque che arriva dopo il pareggio contro la Roma, Lecce che aveva pareggiato anche all'andata, vi ricordate quel famoso 2 a 2 dove il Milan era andato avanti di due reti, poi si era fatto pareggiare, si era fatto recuperare nel secondo tempo e al Via del Mare aveva praticamente buttato via due punti, una delle famose partite che vanno poi annoverate quando pensiamo ai punti buttati dal Milan in questa stagione, un'altra può essere Napoli, Milan avanti di due gol e poi viene recuperato, Lecce, Milan avanti di due gol e poi viene recuperato, un'altra può essere Udine, o meglio l'Udinese in casa dove il Milan perde 1 a 0, Salerno dove il Milan pareggia 2 a 2, insomma tanti punti buttati, tra queste partite c'è anche la sfida contro il Lecce. Però ecco la curiosità di oggi, ovviamente al di là del fatto che il Milan debba vincere perché comunque l'obiettivo è centrare la quinta vittoria di fila, non è mai successo in questo campionato per il Milan ottenere 5 vittorie consecutive in campionato, non sto parlando del mix campionato Europa ma solamente della Serie A e per la prima volta può riuscirci, quindi ci auguriamo insomma che il Milan riesca ad ottenere questo risultato, ma poi c'è questo sfizio di vedere dal primo minuto, comunque a gara, per tutta la gara o per un tempo, vedremo quali saranno le scelte di Pioli, di vedere questo attacco un po' particolare, raramente abbiamo visto in campo tutti e tre i trequartisti o comunque i velocisti del Milan, mi riferisco soprattutto a Ciucuezze da un lato, Leao dall'altro e poi la tecnica, la bravura, la qualità di Christian Pulisic che comunque nel ruolo di trequartista centrale ha già giocato, lui può giocare a sinistra, a destra e centrale, probabilmente preferisce giocare ancora a sinistra, lo aveva detto in un'intervista dopo la partita con la nazionale americana, ha detto io mi sto adattando bene a destra, non pensavo, al Milan sto facendo benissimo a destra, ma il mio ruolo principale e preferito resta a sinistra, però secondo me può giocare egregiamente anche nel ruolo di centrale. E poi c'è la conferma per Olivier Giroud, ancora una volta, Giroud lì davanti, confermato attaccante principale del Milan, qualcuno pensava a Luka Jovic, in realtà Jovic durante il corso della settimana ha avuto un piccolo attacco influenzale, cosa che ha superato subito, però ecco, probabilmente questo ha portato Pioli a decidere di schierare ancora Olivier Giroud. Anche Benasser ha avuto un po' di influenza in questa settimana, infatti inizialmente Benasser doveva giocare trequartista, poi ha saltato un paio di allenamenti per influenza, allora a questo punto Pioli non ha voluto rischiarlo e ha preferito far giocare Pulisic nel ruolo di trequartista al posto dello squalificato Loftus-Cic, una squalifica importante, però si può dare anche un turno di riposo a Loftus in vista poi dell'Europa League. In questo video, oltre a Mila Lecce, che è il focus naturalmente, perché tra poche ore si scende in campo, si gioca a San Siro, parliamo anche dello stadio San Donato, perché in queste ore, in questi giorni, c'è stato ancora una volta un po' di ritardo per l'invio della lettera alla Regione Lombardia per l'accordo di programma, perché? Perché c'è stato un nuovo tentativo da parte della minoranza, di una minoranza a San Donato milanese, nel tentativo di stoppare l'invio appunto della lettera alla Regione Lombardia per l'accordo di programma. Quindi un nuovo tentativo di mozione contro lo stadio di San Donato da parte di una minoranza. Ebbene, questa mozione verrà respinta dalla maggioranza, diciamo, della maggioranza all'interno del comune di San Donato, tant'è vero che ci sarà un consiglio comunale in cui questa mozione verrà respinta. Sarà respinta così appunto da non ostacolare il percorso verso l'accordo di programma. Vedete ragazzi quanta burocrazia c'è attorno allo stadio. In Italia è davvero incredibile. Per fare, per mandare anche una semplice lettera, o comunque per mandare una lettera alla Regione Lombardia, passano giorni, settimane, mesi, perché poi c'è chi vuole contrastare, c'è chi vuole comunque portare avanti la propria idea, idea politica, c'è chi vuole in qualsiasi modo rallentare i lavori, tutto per questioni politiche naturalmente. E questo poi porta a dilatare i tempi. Infatti siamo nel 2024, il Mian aveva cominciato il progetto nel 2019, sono passati cinque anni e vedete quante cose sono cambiate. Però c'è un Jerry Cardinale molto fiducioso per lo stadio. Addirittura in questa intervista al podcast The Deal ha parlato di uno stadio da 70.000 posti in stile americano. Lui dice sarà il primo stadio costruito in Italia dal 2011 tra l'altro ci auguriamo che possa costruirlo, visto che comunque ogni volta ci sono sempre rallentamenti e lungaggini burocratiche. Sarà il primo stadio costruito in Italia dal 2011, sarà uno stadio in stile americano con 70.000 posti a sedere. Lo stadio attuale San Siro arriva a 75.000, quindi siamo lì, non troppo distante dall'attuale capienza di San Siro. e sempre in queste interviste Cardinale parla di quando ha acquistato il Milan e ribadisce di avere il 100% delle quote del Milan tramite il vendor loan, quindi questa pratica che si usa in finanza, dove chi va a comprare un'azienda, in questo caso il Milan, si fa fare un prestito con un tasso di interesse non troppo alto da chi vende, in questo caso Elliot, quindi Redbird acquisisce il 100% delle quote da Elliot, ma per la metà di questa spesa viene finanziato dal venditore, il vendor loan. E lui dice, parlavo di Milan e mi davano del pazzo, anche perché il Milan veniva da una situazione non proprio idilliaca, prima di Elliot, parlo dei cinesi, quindi probabilmente era rimasto quest'alone di difficoltà nell'acquisire il Milan. E poi lui dice, acquistare il Milan è stata la cosa più dura che abbia mai affrontato, ma anche la migliore, la cosa più difficile che abbia mai fatto, acquistare il Milan, ma anche la migliore. Quindi capite che anche Jerry Cardinale arriva a questo affare con tutto il carico di difficoltà per acquistare il Milan, anche a livello economico, però il Milan è talmente un brand importante, lui in questa intervista dice che il Milan è tra i primi quattro brand al mondo, quindi la portata è enorme anche per un businessman come lui, un uomo d'affari americano come lui. E quindi ragazzi abbiamo commentato anche le parole di Jerry Cardinale, ieri non c'è stato il tempo, abbiamo parlato di altri argomenti, io vi rimando al video post-gara dopo Mina Lecce, sperando che il Milan possa agguantare la quinta vittoria di fila in questo campionato, poi ci risentiamo per il commento alla gara, ma anche naturalmente a quello che poi sarà il post-Mina Lecce per la marcia d'avvicinamento all'Europa League, perché poi saranno questi i due match più delicati di aprile, andate al ritorno di Europa League contro la Roma. Vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao!